State per vedere un video della serie Non era una brava persona, rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana. Come potete vedere il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario. Tale faccina, detta anche emoji nel cerco visuale condiviso dalla società dell'immagine, indica ironia, scherzo. Ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico. Non dissacrante, non sarcastico, ironico. Avvertenze. La visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche. Peace and love, guys. Ah, quest'ultima cosa non è ironica, eh? Amiamo la letteratura italiana e di una bellezza disarmante. L'altro giorno chiacchieravo al telefono con una mia amica, una coetanea, che ha fatto poi studi diversi dai miei, quindi non un percorso umanistico, e parlando così del più e del meno mi ha detto, ah sai, guarda, ho visto un paio di video della serie e non ero una brava persona, carino, se mi hai fatto ripensare ai tempi della scuola. E allora mentre stavamo parlando gli ho detto, guarda, ti faccio un'anticipazione, sto preparando il prossimo, sarà un video dedicato a Silvio Pellico. È calato un silenzio glaciale, non ha parlato per una cosa tipo 5-6 secondi. Dopodiché mi ha detto, senti, io va bene che poi ho fatto studi diversi, però ti ammetto che questo qua non me lo ricordo proprio, cioè ma è uno scrittore, è uno che ha scritto qualcosa. Sì, 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 ti assicuro che ha scritto qualcosa, ma l'abbiamo studiato a scuola. Non lo so se tu l'hai studiato a scuola, però sì, è uno scrittore italiano. Mi ha detto, beh, probabilmente durante quella lezione ero presa così a ripensare all'ultimo episodio di Dawson's Creek. In realtà, in realtà, vi racconto l'episodio perché non credo che sia un motivo per cui doversi giustificare. Io ho capito benissimo il punto di vista della mia amica perché Silvio Pellico è uno scrittore che tante volte viene un po' messo da parte, che tante volte non viene degnato della giusta attenzione. Anzi, è uno scrittore che molto spesso si trova citato nei libri di storia, ma non nei libri di letteratura. Io, per preparare questo video, chiaramente ho consultato una serie di fonti. Sono andata a recuperare i miei libri di letteratura del liceo per vedere che cosa si diceva all'epoca e mi hanno confermato quanto io mi ricordavo, cioè Silvio Pellico c'era, però effettivamente nel libro di letteratura c'era proprio un trafiletto sottile sottile e poi solo un brano così antologizzato. Nel libro di storia c'era un riferimento durante le pagine dedicate alla carboneria. Vi assicuro però che nei libri di letteratura della scuola media praticamente non c'è. Io lavoro alle scuole medie stabilmente da quattro anni e ho avuto fra le mani una decina di libri di antologia, fra quelli utilizzati, quelli consultati e cose varie però non me lo sono trovato mai, forse sono stata sfortunata io. Nei libri di storia c'è alle scuole medie, sì, sempre un trafiletto, ma nei libri di letteratura praticamente mai. Poi fatemi sapere se nei vostri c'è scuola superiore, scuola media, però lo capirei se non ci fosse neanche nei vostri perché è uno scrittore che obiettivamente ha una storia estremamente interessante ed è anche l'esempio di un enorme, gigantesco misunderstanding. E oggi scopriremo perché. Se capitate qui per la prima volta sappiate che questo è un video della serie e non era una brava persona, quindi affrontiamo la storia della letteratura italiana attraverso le biografie, anche un po' succose, con qualche aneddoto, qualche dettaglio sulla vita privata appunto dei grandi scrittori della letteratura italiana. E non soltanto dei grandi, grandissimi, dei cosiddetti mostri sacri, anche quelli cosiddetti minori, credo che sia giusto che trovino un loro spazio e anzi sono contenta di volerglielo lasciare, di volerglielo concedere. Proprio per questo motivo ho deciso che da oggi, per le prossime tre settimane, ci saranno dei video dedicati ad autori della letteratura italiana che sono un po' meno conosciuti, tutti, tutti vissuti nello stesso periodo perché sto cercando di fare un percorso più o meno cronologico, quindi siamo tutti nella stessa fascia, nello stesso periodo, però cerchiamo di dare attenzione anche ad autori interessanti che vuoi o non vuoi per un motivo o per l'altro finiscono sempre un pochino relegati da parte. E quindi addentriamoci nella vita di Silvio Pellico, Silvio Pellico, che io per l'occasione non chiamerò in nessun altro modo. Vi ho abituati ai miei mignoli, ma questa volta no, perché Pellicino mi sa di fiabba per bambini, Pelliciotto mi pare che stiamo parlando di manicure, quindi ce lo teniamo bello così per intero nome e cognome, Silvio Pellico. E vediamo che la sua vita è stata veramente molto molto interessante. Silvio Pellico nasce a Saluzzo in Piemonte nel 1789. In giugno, precisamente il 24-25 non si sa, nel senso che io ho trovato molta incoerenza tra le fonti. C'è chi dice che sia nato il 24, c'è chi dice che sia nato il 25. Potrebbe anche darsi che sia nato il 24 e battezzato il 25, come succedeva tante volte. Anche mio padre è capitato. Lui era nato il 30 di dicembre, però l'hanno registrato il primo di gennaio e lui sosteneva di essere nato il primo di gennaio, perché così guadagnava un annetto, faceva la parte di quello giovane e simpatico lui. Però la stessa cosa è capitata pure al nostro Silvio, che nasce appunto nel giugno del 1789, gemello di Rosina. Sì, avevo una sorella gemella. Nasce in questa data che è abbastanza significativa, non vi dice niente, non vi fa venire niente alle orecchie 1789. Lui nasce in giugno, nel 14 luglio del 1789 i francesi prendono d'assalto la Bastiglia, inizia la rivoluzione francese. Insomma, Silvio ha scelto proprio un anno tranquillo, quieto, pacato per nascere. 1789 non ce lo scordiamo, è facile, è una data facile, io capisco il 1492, che già è un pochino più, devi ricordarti, però 1789, guardate, c'è l'1 e poi 7, 8 e 9, vanno di fila questi tre numeri, impossibile dimenticarlo. E quindi 1, 7, 8 e 9, rivoluzione francese, nascita di Silvio Pellico. Vi dicevo nasce a Saluzzo, in una famiglia normale, come ce ne sono tante. Suo padre si chiamava Onorato ed era un commerciante, anche se gli affari non gli andavano particolarmente bene Onorato. Si dice di più la poesia che il proprio mestiere, tant'è vero che le sue attività falliscono una dopo l'altra e la famiglia si sposta con lui in una serie di altri posti, se ne vanno a Pinerolo, poi se ne vanno a Torino. La madre invece di Silvio Pellico era una donna molto religiosa e molto rigorosa, si chiamava Margherita, era un po' un modello di donna che era abbastanza diffuso, comune allora, era quella che teneva proprio le redini della casa, teneva bene le fila della casa, però amava molto i figli che erano diversi, non solo Silvio e la gemella ce n'erano anche altri. Si spostano, vi dicevo si spostano dove se ne vanno appunto prima a Pinerolo, poi a Torino, ma le vicende familiari non vanno tanto bene e non sta tanto bene nemmeno il nostro Silvio che non godeva di ottima salute, era piuttosto gracilino e pensate che i medici gli avevano previsto che sarebbe morto entro i sette anni, poi gli fanno una seconda diagnosi, dicevano entro i venti, poi insomma gli pronosticano sempre dei vaticini alquanto nefasti, però lui è più tenace, è più forte, vedrete che la tenacia, la forza è la caratteristica che contraddistingue tutta la vita di questo straordinario personaggio. Silvio Pellico ad un certo punto viene spedito a Lione, accompagna la madre e la sorella Rosina che si deve sposare con un parente lontano che abita proprio lì in Francia. A questo punto Silvio Pellico si stabilisce lì, resta da questo parente a Lione per imparare l'arte del commercio, per imparare a diventare come papà, o forse si spera un po' meglio, visto che il padre con il lavoro, insomma non era proprio un asso. Rimane in Francia per studiare commercio, ma in realtà si appassiona alla lingua francese, alla cultura francese e Franquoisanne è una fondue, impara l'idioma e anche la letteratura che diventa una delle grandi passioni della sua vita. E quanto gli servirà? Ragazzi, ma quanto gli servirà? Poi dite che le lingue straniere non servono. Sapete quante volte io mi scontro con gli studenti che dicono che l'inglese non serve a niente? Che il francese ormai è inutile? Non è vero, non è vero. Pensate che Silvio Pellico grazie a questi studi che ha fatto è poi riuscito a mantenersi da solo una volta ritornato in Italia, perché altrimenti non ce l'avrebbe mai fatta. Mentre era in Francia, riceve anche delle notizie da parte dell'Italia, riceve anche letteratura da parte dell'Italia, le più recenti pubblicazioni. Nel 1806 si ritrova fra le mani i sepolcri di Ugo Foscolo. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, erano usciti proprio in quell'anno e lui rimane folgorato. Per lui i sepolcri di Ugo Foscolo sono praticamente come per noi Harry Potter, non riesce a staccarsi un secondo dalla lettura, si infiamma, si entusiasma, trova che sia l'opera più riuscita della letteratura italiana, ama tantissimo questo lavoro perché lui ama la letteratura, lui ama la scrittura, vuole mettersi in gioco, vuole provare pure lui in qualche maniera e ce la fa. Ad un certo punto ce la fa e vediamo come quando. Ritorna in Italia, ha 20 anni, raggiunge la famiglia a Milano, dove il padre si è andato a stabilire alla ricerca nuovamente di un impiego, visto che come vi ho detto insomma il fallimento ce l'aveva sempre sotto lo zerbino pronto, si stabilisce a Milano un po' insieme alla famiglia, poi la famiglia se ne va da un'altra parte ma lui ormai ha trovato il suo posto, perché a Milano trova da lavorare come insegnante di francese. Avete visto che il francese gli è tornato utile? Avete visto che ha fatto bene a studiarsela questa lingua? E non solo, perché prima studia il francese e quindi diventa insegnante di francese, poi trova un impiego stabile in una famiglia importante, la famiglia del conte Porro Lambertendi, dove viene assunto come precettore dei figli, si stabilisce in questa casa e per lui si aprono tantissime opportunità. Perché? Perché le case dei nobili erano anche quei luoghi dove si stimolavano i contatti, gli incontri. Oggi ci si incontra beh, oggi proprio ci si incontra in piazza, non direi, visto che siamo un pochino limitati però abbiamo i social, si incontra la gente, poi si spera che ad un certo punto potremmo anche ricominciare a fare un po' di vita sociale più. Però allora i salotti nobiliari erano l'ottima occasione per incontrare delle persone e chi incontra, incontra dei grandi nomi, incontra Standal, Byron, Vincenzo Monti e il suo idolo, l'autore dei sepolcri, incontra Ugo Foscolo e diventano amici. È una cosa bellissima perché lui è riuscito a diventare amico dell'autore del libro che adorava, cioè una cosa pazzesca. Diventano molto amici e lui nel frattempo comincia a scrivere. E vi sorprenderete perché la prima cosa che lui scrive non è saggistica, non è memorialistica, non è storia, scrive teatro, scrive testi teatrali, scrive tragedie. La sua prima opera si chiama Laudamia ed è una tragedia che viene acclamata anche dallo stesso Foscolo. Ora dobbiamo trovarglielo qualche difettuccio a Silvio Bellico, anche se vi dico che obiettivamente, obiettivamente con lui è molto complicata perché lui è un po' il Gianni Morandi della letteratura, è uno che ha sempre cercato la pace, la quiete con le altre persone, non è uno che cerca, non era un attaccabrighe, non era uno che coltivava vizi particolari, però un difettone ce l'aveva, questo lo dobbiamo dire Silvio, un difettone c'era. Gli amici non se li sapeva scegliere, proprio no, sapete quando uno si sceglie gli amici sbagliati, si dice te lo sei andato a cercare con l'anternino, proprio l'amico quello sbagliato, ecco lui aveva questa particolare dote per selezionarsi gli amici complicati che gli causavano una serie di problemi, per esempio Vincenzo Monti, no? Vincenzo Monti ad un certo punto si pensa a questa cosa e dice vero Silvio perché non traduciamo tutto Byron e pubblichiamo una bella opera omnia di Byron e gli mettiamo sulla copertina, è il nome tuo, è il nome mio e così ci dividiamo i proventi. Sì, lo sapete però qual era il problema? Il problema fondamentale era che Vincenzo Monti l'inglese sapeva poco e niente, quello che sapeva l'inglese invece era Silvio Pellico, quindi il nostro Silvio si fa due conti e dice va bene io adesso mi devo fare tutta la traduzione di Byron, cioè capite quanto ci vuole fare tutta la traduzione di Byron, nel frattempo Vincenzo Monti sta qui accanto a me, chiacchiera, discorre, traduce un po' di Omero, poi alla fine mettiamo i nostri nomi insieme e il risultato è che la fama va a lui perché quello famoso fra i due non era Silvio, era Vincenzo e allora molto cortesemente rifiuta perché Silvio Pellico è uno tenace e uno che alle proprie idee e alle proprie convinzioni ci tiene. Vincenzo Monti non ci resta molto bene, se la lega al dito questa, ma il problema non è soltanto Vincenzo Monti, cioè il problema con gli amici ce l'ha anche rispetto ad altri, vi ho detto prima il suo più grande amico chi era Ugo Foscolo, gli aveva fatto leggere la sua tragedia, gli era piaciuta e allora che fa? Ne scrive un'altra, un'altra, fra l'altro una bella di quelle tragedie sensazionali, forti, pazzesche, si intitolava Francesca da Rimini ed era ispirata al personaggio di Dante però con una lettura più moderna, anche più al passo con i tempi. Ora quando voi fate una cosa bella, qual è la prima cosa che volete fare? Cioè voi, non so, vi esce fuori una torta perfetta dal forno, oppure scrivete una canzone che vi piace, fate un disegno e dite, sai che questa cosa mi è venuta bene? Che cosa fate? Lo condividete, volete subito condividere questa gioia con un'altra persona? Lo mostrate a qualcuno a cui volete bene, qualcuno che vi vuole bene, lo mostrate a un amico, a un'amica, al fidanzato, alla mamma, a qualcuno che sapete che vi dirà, ah guarda che bella cosa che hai fatto, oppure se siete un po' più intraprendenti lo condividete sui social, perché così i mi piace saranno ancora di più e la vostra autostima cresce. Sapete che non dovrebbe essere così eh? L'autostima non dipende da quanti like riceviamo, noi l'autostima ce la dobbiamo avere a prescindere, perché dobbiamo essere convinti delle cose che facciamo, non perché gli altri ci dicono che vanno bene. Quello può essere sì, un po' un rinforzo positivo, ma non è la cosa più importante di tutte. Comunque fatto sta che è umano, che Silvio voglia che alcuno gli dica, hai fatto una bella cosa, e allora da chi se ne va? Ma ovviamente se ne va da Ugo, perché Ugo prima gli ha detto che la prima tragedia era bella. Sapete come finisce? Male, malissimo. Ugo Foscolo legge questa Francesca da Rimini e gli dice letteralmente che sarebbe meglio se la buttasse alle fiamme. Ora, noi non sappiamo se Ugo Foscolo effettivamente non abbia gradito il testo, cosa che può anche essere accaduta, oppure magari cominciava a rosicare un pochino perché l'amico stava prendendo il volo ed era meglio tarpargli le ali. Ora, queste sono illazioni, io non posso, non voglio dire niente perché non lo so. Certo è che l'invidia umana, fatto sta comunque che Silvio si rivela ancora una volta più tenace, più forte, perché non segue il consiglio del suo amico, non lo segue, segue la sua intuizione, il suo cuore e la sua idea. Che cosa fa? Continua a proporre il suo testo, la sua tragedia e nel 1815 va in scena e continuerà ad andare in scena per mezzo secolo, facendosi applaudire in tutti i teatri d'Italia. Al debutto la protagonista era interpretata da un'attrice giovanissima che allora faceva scalpore, si chiamava Carlotta Marchionni e la gente quando la vedeva andava in visibilio e e lui era estasiato perché la sua tragedia aveva questa interprete, voi pensate è come se io oggi scrivessi una canzone e venisse interpretata da Lady Gaga, cioè per farvi capire la cosa, come si deve essere sentito Silvio Pellico in quel momento, era ancora nessuno, non lo conosceva quasi nessuno e la sua tragedia viene interpretata dall'attrice più in voga dell'epoca. Che soddisfazione, che soddisfazione caro Ugo, chissà come deve essersi sentito contento e soddisfatto il nostro Silvio. Bene, passano i mesi, passano gli anni, passa qualche anno e nel 1818 Silvio Pellico comincia a collaborare con una rivista recentemente fondata, un periodico che si chiamava Il Conciliatore, viene avvicinato a questa idea da un musicista italiano, Piero Maroncelli, che diventa suo amico e come avrete capito la cosa non andrà bene perché come abbiamo capito se il nostro Silvio ha un difetto è proprio quello che gli amici non se li sa selezionare. Lui e Piero Maroncelli diventano molto legati, Piero Maroncelli è un patriota, sposa la causa anti-austriaca, vuole l'Italia indipendente, vuole liberare questo Nord sotto il piede straniero e allora cominciano a scrivere entrambi per questo giornale. In realtà diciamo che Silvio Pellico doveva fare il segretario ma fondamentalmente era proprio il direttore perché poi metteva insieme tutti questi articoli, alcuni li scriveva, alcuni poi li coordinava. Escono dei numeri però la censura austriaca lo guarda di cattivo occhio e viene sempre più tagliato, sempre più seghettato fino a quando nel 1819 le pubblicazioni sono sospese perché veramente gli austriaci impediscono la libera stampa, la libera espressione del pensiero. Ma i problemi non sono ancora finiti, peggiorano. Peggiorano perché Silvio Pellico si avvicina ad un gruppo famoso, un gruppo clandestino, si chiamava la Carboneria, penso che questo nome non vi sia nuovo, e si avvicina a questo gruppo sempre perché chi è che lo aveva invitato ad andare lì? Piero Maroncelli. Ma Piero Maroncelli è anche responsabile di una cosa decisamente più grave che forse è l'avvenimento, anzi decisamente l'avvenimento più devastante della vita di Silvio Pellico, cioè l'arresto e la prigionia. Nel 1820 tra le carte di Maroncelli viene recuperata una lettera compromettente che incrimina Silvio Pellico e lo etichetta come cospiratore. Insomma, Maroncelli avrebbe fatto meglio a utilizzare un pochino il metodo Maricondo invece di conservare proprio tutto tutto tutto. La polizia li arresta entrambi. Il 13 ottobre del 1820 Silvio Pellico viene arrestato, poi viene sottoposto ovviamente ad un processo e viene condannato a morte. Durante il periodo in cui aspettava la sentenza ha meditato il suicidio, però ad un certo punto si è detto che era molto più opportuno avere coraggio e morire da martire. Morire cristianamente però, morire senza anticipare i tempi e prendere delle decisioni che non dipendessero dall'esterno. Infatti la condanna a morte viene presto commutata e trasformata in un'altra cosa, cioè carcere duro. Viene spedito per 15 o 20 anni non ve lo so dire con esattezza perché anche su questo punto le fonti che ho consultato sono contraddittorie viene mandato in un carcere. Prima viene mandato ai Piombi, a Venezia e poi viene spedito allo Spielberg la portezza dello Spielberg che si trova nelle parti di Brno, si pronuncia così Brno e si trova nell'attuale Repubblica cieca. Rimane qua in totale fino al 1830. Anni durissimi, anni terribili, anche perché ricordiamoci che Silvio Pellico fin da bambino non godeva di ottima salute, quindi affronta questa prigionia con grandissimo dolore e grandissima difficoltà. Quando viene graziato e liberato insieme a Piero Maroncelli, perché va bene che l'ha fatto incriminare però quantomeno amici nella sventura, esce dal carcere e ritorna in Italia, siamo già nel 1830 per l'appunto, comincia a scrivere un libro di memorie. Un libro che, occhio perché questo è importante non vuole essere un libro politico, non vuole essere un libro di denuncia della deportazione non vuole essere un libro patriottico. Fondamentalmente non ha questa intenzione e lo dice esplicitamente già nell'introduzione alle mie prigioni, che è il titolo del libro. Ci dice che la politica la vuole tenere a parte, che il suo scopo è consolare qualche infelice. Il libro è bellissimo, guardate questo qua. Lo faccio vedere e vi raccomando questa edizione se lo voleste leggere. Edizione della Burra con le addizioni di Piero Maroncelli che ci racconta la biografia di Silvio Pellico, una bellissima introduzione a cura di Giorgio De Rienzo e poi il testo, che di per sé va riscoperto e bisogna guardarlo con cura questo testo perché, come vi dicevo all'inizio, è un grande caso di misunderstanding. Dov'è che è finito le mie prigioni? È finito nei libri di storia. Ma l'intenzione di Silvio Pellico era quella di scrivere un libro di letteratura ma non soltanto un libro di letteratura, un libro che fosse l'immagine di una trasformazione. Un grande critico, Folco Portinari, ha definito questo libro Dostoieschiano ante litteram perché le mie prigioni, altro non è che il resoconto di un percorso di redenzione ottenuto attraverso l'espiazione che segue la condanna. Il nostro protagonista della storia, che è anche l'autore, modifica la propria vita, modifica il proprio pensiero, si riavvicina moltissimo alla religione. La madre era molto devota, molto religiosa, ma lui in età giovanile si era fatto trascinare dagli ideali illuministici e si era molto allontanato dalla fede e dalla chiesa. Invece durante la prigionia comincia a maturare una specie di percorso spirituale, si riavvicina moltissimo alla fede, alla spiritualità, soprattutto si riavvicina moltissimo ad un'idea di rispetto e amore per tutti gli uomini. Guardate, lui arriva a dire una cosa incredibile che vi voglio leggere letteralmente nelle sue parole perché non vorrei storpiarle, non vorrei cambiarle, vorrei che restassero così. e lui dice proprio questo, gli aguzzini vanno perdonati perché bisogna amare tutti gli uomini ma odiare il male che commettono. Ma voi pensate che sia una cosa facile questa? Sembra a parole tutto facile, ma è così facile perdonare una persona per quello che ha fatto? Separare la persona dall'atto che ha compiuto? Lui diceva, riprendiamo, riprendiamo, diceva bisogna amare tutti gli uomini ma odiare il male che commettono. Cioè bisogna odiare lo stupro ma amare comunque lo stupratore. Bisogna odiare il carcere ma amare comunque il carceriere. Ma è possibile questo? Cioè vi riuscite a rendere conto della difficoltà di quello che sta dicendo? Ora i miei alunni probabilmente davanti a queste affermazioni avrebbero detto vabbè ma io mica sono Gesù Cristo, Buddha, ma chi credeva di essere questo qui che pensava di poter fare una cosa del genere? Le persone normali non le fanno queste cose. Infatti le persone normali non le fanno, le persone normali si vendicano, le persone normali si arrabbiano, covano aggressività, non perdonano. Le persone normali, non tutte, non tutte. Ce ne sono alcune straordinarie che riescono a fare degli atti di pietà, di carità incredibili. E lui è questo che provava. Se leggete Le mie prigioni, che è un libro di una bellezza straordinaria, io l'ho riletto proprio in questi giorni per fare questo video e mi sono venuti i brividi, vi accorgerete di quanto quest'uomo fosse profondo ed è commovente. Lui arriva a riconoscere l'umanità in tutte le persone, persino nei suoi aguzzini. C'è un capitolo bellissimo, uno di quelli antologizzati più spesso, perlomeno nei libri delle scuole superiori, sempre perché in quelli delle scuole medie non si sa perché, vabbè si sa, il tempo è poco, un po' lo leviamo. C'è una parte bellissima che è il momento in cui Silvio Pellico incontra un carceriere che si chiama Schiller, come il grande drammaturgo tedesco, suo malgrado, e questo carceriere inizialmente gli sembra un brutto, gli sembra uno cattivo, tremendo, perché il suo compito qual è? Quello di fare la guzzino, di fare il carceriere. Però ad un certo punto Silvio e Schiller cominciano a parlare e Silvio si accorge che quest'uomo non è il ruolo che sta svolgendo, che quest'uomo non è il male che è stato chiamato a svolgere per forza di cose, per necessità, perché un lavoro gli serviva e quindi svolge un lavoro detestabile pur non volendolo fare. E quanto è difficile allora giudicare? Quanto è facile farsi un'idea immediata e quanto è difficile poi dare un giudizio veramente obiettivo, oggettivo, tenendo conto di tutte le parti. Infatti Silvio Pellico non lo capisce quasi nessuno. Quando questo libro viene pubblicato, la critica gli si rivolta contro. Alcuni lo acclamano perché diventa poi un caposaldo della letteratura patriottica, ma non era la sua intenzione, lui non voleva fare politica, anzi cercava una vita calma, una vita riparata, una vita di spirito, non una vita di lotta, perché la violenza è contraria al Vangelo. E' questo che dice nelle mie prigioni. Tanti invece ce l'hanno con lui perché dicevano che il carcere lo avesse indebolito, lo avesse reso fiacco e che la sua fede era una maschera ipocrita. Pensate che Gio Berti, quello che voleva la Confederazione degli Stati Italiani, guidati dal Papa, lo chiama Madame Gella Pellico, per questo suo stile piuttosto semplice e per queste sue idee alquanto poco virili, poco agguerrite, poco da uomo, poco determinate, poco da combattente, poco nello spirito dell'epoca. Silvio Pellico la prende malissimo perché pensate a una persona di questa sensibilità, come possa aver mai reagito a questo tipo di reazioni. Male, male. Si ritira a vita privata, cerca di scostarsi sempre di più dal pubblico, pubblica delle altre tragedie, ma viene visto sempre con maggiore diffidenza e allora decide che è meglio starsene da parte, meglio starsene di lato per i fatti suoi, con la sua letteratura. Muore a 65 anni, senza tanti amici intorno, sempre più stanco, ma ancora con un'enorme, incredibile fiducia negli esseri umani, pure in quelli che lo avevano abbandonato, pure in quelli che lo avevano deprezzato. Continuo a scrivere fino all'ultimo che l'umanità è buona e gentile. Mamma mia, guardate quanto mi sono ritrovata a preparare questo video, ho detto ma perché a me queste cose non le ha mai spiegate nessuno? Perché a me Silvio Pelli, come l'hanno sempre presentato con un grande patriota italiano, non mi hanno mai detto che cosa c'era dietro? Qual è la grande complessità di quest'uomo, l'enorme misunderstanding che sta dietro tutto quello che lui intendeva dire? E vi rendete conto che ancora noi siamo dentro questa trappola? Siamo dentro la trappola della rivisitazione, dell'interpretazione di quello che ci dicono gli altri. E invece noi i testi ce li dobbiamo andare a prendere, dobbiamo andare a prendere loro, li dobbiamo fare parlare, quello che loro hanno da dire, non quello che altri hanno voluto travisare e fare intendere, perché i testi hanno molta verità e noi possiamo cogliere quello che ancora hanno da dirci. A questo punto io vi saluto, ma vi voglio salutare con un grande insegnamento che è arrivato a me prima di tutto, grazie alla bellissima occasione di riscoprire Silvio Pellico per fare questo video, ed è una frase, la frase con cui lui apre, proprio quel capitolo dedicato all'incontro col carceriere, con Schiller, e secondo me è una frase, o meglio scusate, è un periodo perché ci sono più verbi, quindi cerchiamo di essere precisi, non è una frase, però contiene una grande considerazione della quale ci dovremmo ricordare ancora oggi tutti noi, perché mi sa che non l'abbiamo imparata molto bene. e dice così O come sono gli uomini ingiusti, giudicando dall'apparenza e secondo le loro superbe prevenzioni. Altro che autore relegato ai libri di storia, Silvio Pellico, ci hai dato così tanto e noi ancora così tanto dobbiamo imparare.